Gormiti, i Supremi! Sommo luminescente ed oboscurio sono tornati! Sull'isola di Gorm niente sarà più come prima! Scopri la potenza della loro nuova armatura d'oro e dei loro accessori per lo scontro supremo! E ora Power Explosion! La loro forza è incontenibile! Nulla li può fermare! Libera il loro grande potere esplosivo e preparati alla sfida! Gormiti, i Supremi e Power Explosion! E tu sei pronto per la battaglia? Grazie a tutti!